ciao a tutti e benvenuti avremo di calcio oggi parliamo del caso papo gomez che come di molti già sapranno è stato squalificato perché trovato positivo al al test anti doping i fatti contestati risalgono al novembre del 2022 quindi quando il calciatore giocava ancora con con il il siviglia sia la sua ex squadra che ovviamente lo stesso calciatore era una conoscenza gli erano stati notificati i risultati del test però la notizia era stata tenuta segreta tanto è vero che nel frattempo il papo gomez ha firmato con il monzo dopo aver rescisso il contratto con la sua precedente squadra questo è sicuramente un comportamento che discutibile perché il calciatore sapeva della spada di damocle che pendeva sulla sua testa e quindi magari avrebbe potuto agire diversamente pare addirittura che stesse attendendo gennaio per riprendere con l'attività calcistica poi si è presentata all'offerta del monza e è accettato nel frattempo il papo gomez ha dato la possibilità di disputare disputare i mondiali con che ha vinto con la sua argentina senza giocare mai un solo secondo se non ricordo male è niente e ha proseguito così fino fino alla notizia che è venuta fuori in queste ore ora perché è stato squalificato paolo gomez cosa ha assunto evidentemente nessuna sostanza che potesse in qualche modo migliorare le sue prestazioni le sue prestazioni sportive questa è la sua versione perché la sostanza incriminata sarebbe la un principio della famiglia della b2 della adrenergico che si trova nei medicinali anche nei medicinali per contrastare gli effetti dell'asma da quanto detto dal calciatore una notte stava male ha preso uno sciroppo in uso al figlio e niente però ha assunto una dose e se è tornato a dormire ora io mi chiedo il papo gomez un calciatore credo che abbia sui 35 anni ha una grande esperienza alle spalle sa benissimo che ci sono una serie di medicinali che non si possono assumere senza il parere positivo dello staff medico del suo club non capisco come si può possa arrivare quindi a commettere una simile ingenuità che attenzione non è il primo caso ma quanti calciatori sono stati squalificati per per una pomata prendiamo il caso di di poga come poco base giocato alla carriera così probabilmente scrive la parola fine sulla sua è il papo gomez un calciatore che per quanto mi riguarda ho sempre stimato fin dai tempi del catania le cose migliori probabilmente l'ha fatto vedere all'atalanta con con gasperini e che sinceramente mi dispiace perché appunto come calciatore lo apprezzavo però certi errori proprio sono sono incomprensibili sono incomprensibili da se commessi da un professionista ma ancora di più se commessi da un professionista che ha tanti anni di di carriera alle spalle è stata una leggerezza sicuramente non penso che si possa si possa mettere in dubbio la la correttezza del del calciatore perché è sempre stato un calciatore corretto tanto in campo quanto fuori mai non è mai andato sopra le righe e così via fatemi sapere la vostra opinione in merito mi dispiace che debba chiudere così la sua carriera per uno sciroppo perché due anni di squalifica 35 vuol dire tornare lì diciamo libero di giocare a 37 anni e dopo due anni di attività niente parte carriera finita dispiace ripeto fate sapere la vostra opinione soprattutto per sapere se il video vi è piaciuto con un like e noi ci vediamo la prossima volta non prima di invitarvi come sempre scriviamo il mostri calcio ci vediamo